Signori, bentornati in un nuovo video flash. La band è arrivata. Nella giornata di ieri, due carte sono state prese di mira dalla Bandai in persona per cercare di equilibrare un meta che a detta di molti veniva rappresentato unicamente da due leader nello specifico, l'Orosso Viola e l'UCDOP07. Infatti, al termine delle fasi finali della prima wave del championship giapponese, sono stati annunciati importanti cambiamenti che vedranno ancora una volta modifiche alla ladder attuale attraverso variazioni ed esclusioni che hanno comunque lasciato dietro di loro critiche e dissensi. Ma procediamo con ordine. Per quanto riguarda il deck di Trafalgar, sarà quest'ultimo ad essere coinvolto in prima persona attraverso un'errata proprio come è stata per Sakazuki. Infatti l'effetto originario, ovvero active main once per turn don meno 3, piazza in fondo al mazzo un character avversario con forza pari o inferiore a 3000 e gioca un character con costo pari a 4 o inferiore dalla tua mano in campo, verrà cambiato con una nuova abilità che menziona. Active main, once per turn don meno 3, e qui non cambia nulla, manda in fondo al mazzo uno dei tuoi character con costo pari a 3000 o superiore e gioca un personaggio con costo pari a 4 o inferiore che possieda il tratto hard pirate dalla tua mano in campo. Duro colpo quindi per tutti gli utilizzatori del Medico della Morte, che nelle condizioni attuali non potrà più far utilizzo incondizionato di fonti offensive davvero eccellenti come Kid the Killer, Zoro e quanti più rush possibili atti a demolire le difese rivali. Ma non solo, anche i Gordon e i Ryze Max risulteranno pressoché inutili dato che bersaglieranno i personaggi avversari, insomma un deck completamente da prendere e cistinare. Mentre per quanto riguarda il nero e Luci nello specifico, la stage Impel Down è stata messa al bando, carta che nelle meccaniche del capo della CP0 garantiva un solido meno 2 di costo certo ad un personaggio a scelta rivale e che si incastrava alla perfezione con carte come Brook, l'UCSR e tutti quanti quei personaggi che agiscono sullo stato di salute dei character rivali ai quali si è abbassato il valore di giocata. La mancanza di questo elemento si farà sentire? Alcuni dicono che si doveva agire su ben altri fattori, come la limitazione di Moria a costo 8 e Rebecca Blocker, Black Maria Viola e molte altre carte che a modo loro sono andate a segnare indelebilmente i match svolti nei mesi passati. E invece no, Moria vive nelle sue due versioni, leader ed SR, la bellezza di Dressrosa continuerà a fare melina riportando indietro dalla fila degli scarti cose e Black Maria nel prossimo set trasformerà Kaido Viola leader in un mostro, o almeno è così che la penso personalmente. Sarò curioso comunque nel prossimo set di scoprire se ci saranno dei grandi ritorni o se si confermerà in nero il colore da battere assieme ad un giallo che poi inizierà a fare il conto alla rovescia in vista di OP09. Ma ora passiamo alle considerazioni. Per quanto mi riguarda l'errata Trafalgar può andare più che bene, lo avevo previsto tempo addietro e il tempo mi ha dato ragione. Per Impel invece non me lo aspettavo proprio, non la reputavo una carta pericolosa come magari una Moby Dick, anche se in effetti quel meno 2 a volte poteva fare davvero la differenza, in aggiunta anche al potere del leader stesso. Una limitazione di Moria ci poteva stare, anche se comunque ho sempre sostenuto che è un costo 8 e non costantemente le risorse che si desiderano si trovano nella pila degli scarti, quindi a volte può diventare per assurdo situazionale, anche se mantiene inalterato il suo valore intrinseco che resta comunque molto forte in caso di favore. Per Black Maria invece anche lei l'avrei limitata a uno o errata, con diciture varie, tratti specifici e quant'altro. Ma non è stato così, e va bene lo stesso. Non ci resterà altro da fare che adattarci a questa nuova forma del meta attuale che, a partire dal primo settembre di quest'anno in Oriente e probabilmente anche qui da noi in contemporanea, ma attendiamo maggiori notizie al riguardo, vedrà presumibilmente nuovi protagonisti dominare in contrastati i settemari. Prima di concludere volevo ringraziare Zuno TCG per le grafiche che mi ha gentilmente fornito, vi lascerò come sempre ogni link in descrizione. Questa nuova baned list mi ha particolarmente colpito, proprio per la sua natura, strana a tratti ma pensata sotto diversi punti di vista. Chissà se come è stato per Barba Bianca, anche in questo caso non si dovrà ricorrere a nuove modifiche, ora che uno dei deck più forti in circolazione ha subito un duro colpo. Staremo a vedere. E voi siete d'accordo con la decisione presa dalla casa madre? Come sempre fatemelo sapere nei commenti, inoltre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se volete scoprire altre notizie provenienti dal croggiolo.